Leonardo Silva Revisore Un anno fa circa mi trovavo con la mia fidanzata Federica a Parigi, in un ristorante, uno di quei ristoranti romantici, con la luce soffusa. Stavamo cenando ed eravamo seduti nel tavolo del ristorante più lontano rispetto alla porta d'ingresso. Io sono il classico tipo un po' paranoico che controlla tutto e osserva sempre tutto. Sono il classico che magari mentre sta cenando cerca di capire se il tizio al tavolo accanto è un potenziale serial killer o meno. Durante la cena all'improvviso entrano nel ristorante due persone, un ragazzo e una ragazza, visibilmente alterati, forse avevano preso sostanze o erano solo molto molto ubriachi. Iniziano a fare un po' di cacciara, uno dei due si accascia a terra, il titolare del ristorante si avvicina subito e insieme a un cameriere li accompagnano all'uscita. Questa scena dura pochi secondi. Probabilmente il resto del ristorante non se ne ha accorto. Il titolare stesso in pochi secondi è riuscito a tirarli fuori. Nel momento in cui li ha mandati via, io mi sono alzato e sono corso fuori verso di loro. Gli ho rincorsi e sono riuscito così a recuperare la borsa della mia fidanzata che avevano rubato e altre due o tre borse e qualche cappotto. Questo perché in quel secondo in cui la persona si era accasciata era riuscita a raffare dei cappotti e delle borse che erano vicine alla porta d'ingresso, mentre la fidanzata cercava di distrarre il titolare e il cameriere. Probabilmente il titolare che aveva a che fare con loro non si era reso conto di questa cosa perché non aveva fiducia nel loro stato alterato. Era quella la sua preoccupazione. Il resto del ristorante non se ne era neanche accorto. Io in quella occasione non avevo fiducia del genere umano, nel senso che mi ero ricordato che il cameriere aveva portato le borse e i cappotti in uno sgabuzzino molto vicino alla porta. In quell'occasione non avevo creduto allo stato alterato delle persone, avevo creduto un passo prima proprio ad una mancanza di fiducia nei loro confronti, del fatto che fosse una scusa per derubarci. Per fortuna sono riuscito a recuperare le borse e per fortuna non mi sento neanche tanto strano perché il problema della fiducia nella civiltà umana è un problema che noi ci portiamo dietro da circa 10.000 anni. Pensate, e non è sempre stato così, non siamo nati senza la mancanza di fiducia. È solo negli ultimi dieci anni che l'essere umano non si fida più dell'essere umano. Se torniamo a 10.000 anni fa, infatti, agli inizi della civiltà per quel poco che ce n'era, la nostra economia di base si basava sull'economia del dono. Ognuno di noi produceva un tot, consumava una frazione di quello che produceva e tutto quello che avanzava lo regalava. Lo regalava a chi gli stava intorno, a chi incontrava, a chi viveva con lui e a sua volta riceveva in regalo quello che capitava e che veniva prodotto dalle altre popolazioni intorno. E questo andava bene. Nessuno attribuiva un valore al suo lavoro, a quello che produceva o a quello che regalava. E nessuno pretendeva di avere per forza qualcosa in cambio. Poi dopo qualche migliaio di anni abbiamo avuto bisogno di inventarci il baratto, una delle forme primordiali di scambio di valore. Perché? Perché eravamo tanti. E io sì, regalavo quello che mi avanzava, ma non avevo più la certezza che avrei ricevuto qualcosa in cambio. E quindi abbiamo dovuto dare un valore a quello che scambiavamo. I problemi del baratto brevemente sono stati tanti. Spesso venivano barattati bestiame, cibo. Quindi era deperibile, spesso non frazionabile. Quindi era molto difficile barattare con popolazioni che abitavano distanti. E allora si sono inventati le prime forme di premoneta. Hanno dovuto, abbiamo dovuto come civiltà, standardizzare il valore che ci scambiavamo. Non avevamo le monete come le immaginiamo oggi. Avevamo probabilmente gli oggetti che più utilizzavamo in base alle aree geografiche in cui scambiavamo valore. Quindi i sassi, il sale, la giada e così via. Immaginatevi però trasportare enorme quantità di sassi per andare a fare la spesa. E immaginatevi il problema che ogni sasso ha un peso diverso, una dimensione diversa. E quindi per me questi sassi valgono un tot, ma per chi deve vendermi quel bene non valgono lo stesso. Ecco, lì la grande intuizione ce l'hanno avuta i santuari. Il commercio l'hanno inventato i santuari, non l'hanno inventato i mercanti. I santuari hanno capito che c'era un enorme problema di fiducia alla base. E si sono messi come terza parte fiduciaria, come intermediario fiduciario, sono diventati garanti di quella moneta. qualsiasi moneta, qualsiasi sasso che passasse sotto i santuari veniva marchiato. Cioè i santuari ne attribuivano un valore e ne mettevano un effigie, un marchio, che diceva era passato qui, quindi quel valore era giusto. E a nessuno importava più controllare quel valore. Poteva non essere realmente quel peso, quel valore, poteva non valere nulla. Ma se sopra c'era un marchio, quindi una terza parte garante, che non aveva nulla a che fare in quello scambio, che attribuiva quel valore, allora tutti le credevano, perché tutti l'avrebbero accettato. E se ci pensate, questo va bene ancora oggi. Oggi quei santuari sono diventati le banche, i sistemi di pagamento, tutti quegli intermediari fiduciari che in altri sistemi, non per forza finanziari, possiamo chiamare il notaio. Chiunque deve apporre una garanzia di fiducia tra due persone. Io non posso comprare o vendere la mia casa con un'altra persona se non c'è un notaio che lo registra da qualche parte. Come io non posso, se vengo interrogato a scuola, decidere che voto mettermi. Deve esserci un professore. E lo Stato, l'università, la scuola si fida di quello che dice il professore, non di quello che dice l'alunno. E forse il grande problema nostro è che per diecimila anni abbiamo creduto, risolto il problema della fiducia e non ci siamo più preoccupati di risolverlo realmente. In realtà il problema della fiducia non è risolto. Perché quel garante, quella terza parte fiduciaria ha un costo. Impiega del tempo a garantire un qualcosa. ma la cosa più pericolosa è che può sbagliarsi o in cattiva fede può essere corrotto per sbagliarsi. E allora arriviamo così un po' più avanti al 1400. Pensate, nel 1400 il problema l'avevano risolto ma non gli abbiamo dato troppo peso. Nel 1400, e qui arriva la storia di questo oggetto particolarmente strano, questo oggetto è un rai, è un sasso. Nel 1400, in un'isola, in una sperduta isola microscopica in Micronesia, l'isola di Yap, gli indigeni, gli abitanti, decidono un giorno di salire sulle loro zattere e vedere cosa c'è oltre l'oceano. Si fanno più di 400 chilometri e arrivano alla terraferma più vicina, Palau, e lì trovano oggetti, alberi, frutti, cose che non avevano sulla loro isola perché era un'isola molto piccola. Tra le tante cose si innamorano particolarmente di queste formazioni calcare, ovviamente questo è riprodotto e ora vi spiegherò perché, di queste formazioni calcare che non sono altro che sassi con un buco al centro. Ma piacciono talmente tanto questi sassi che iniziano a fare spedizioni per portarli sulla loro isola e l'isola viene ricoperta di questi sassi. E allora, pochi anni più avanti, iniziano ad avere il bisogno di avere loro un modo per standardizzare il valore, di avere loro bisogno di una moneta che non avevano fino a quel momento e si chiedono qual è l'oggetto che abbiamo in più grande quantità sull'isola? Il RAI. Usiamo il RAI come moneta. E attenzione, perché qui cambia tutto. Quello che avviene nell'isola di Iapp è totalmente diverso da quello che avviene nel resto della civiltà umana. Non danno un valore in base a ciò con cui è costruito il RAI o a ciò che si dice sul RAI, danno un valore in base alla sua storia. Ogni singolo sasso, in base alla storia che ha, può valere di più o di meno. Se il sasso è piccolo ed è stato facilmente trasportato o raccolto, vale poco. Se il sasso è molto grande e sono morte delle persone in quella spedizione per riuscire a portarlo nella loro isola, allora vale tantissimo. E quindi probabilmente gli abitanti più ricchi dell'isola avevano i sassi più grandi. Spesso molti sassi, dato che persone erano morte per trasportarli, si trovavano in fondo all'oceano. Ma non importava vederlo o possederlo fisicamente. Qualcuno aveva tramandato quella storia, qualcuno aveva raccontato che dieci persone erano morte in mezzo all'oceano per trasportare un sasso di dieci metri quadrati, di un diametro di dieci metri. E allora quel sasso valeva proprio tanto. Anche se non lo vedevamo, ci fidavamo di quello che c'era stato tramandato. E il problema sorge quando chi deteneva tanti sassi non li poteva tenere dentro la propria abitazione e magari la notte gli venivano rubati. E lì avviene una seconda idea geniale. Hanno una seconda idea geniale. oggi nel 2019 il problema del furto, della fiducia, come lo risolveremo? Probabilmente utilizzeremo tutti i sassi che ci sono rimasti per pagare qualcuno che faccia la guardia al nulla. O andremo noi a nostra volta a rubare di nascosto a qualcun altro perché qualcuno ha rubato a me quindi sono giustificato. Nel 1400, per fortuna, erano più intelligenti di noi nel 2019 e inventano una legge. Applicano un codice di regolamento. Ogni singolo abitante deve avere un registro condiviso. Deve avere una mattonella, non so in che materiale fosse fatto, ma ogni singolo abitante aveva una copia di un registro unico, decentralizzato, che riportava tutte le informazioni sulle proprietà dei sassi. E non importava più che te l'avessero rubato o meno, che quel sasso esistesse veramente. No, che tu lo avessi in mano. Per spenderlo bastava che la tua informazione fosse all'interno di quel registro. Se tu eri il proprietario di quel sasso in fondo all'oceano e lo volevi spendere, andavi a spenderlo senza portartelo dietro, senza dover andare a recuperarlo in mezzo all'oceano. Qualcuno dall'altra parte avrebbe controllato il registro e avrebbe trovato la tua proprietà. Il grande cambio di paradigma è che il valore non è più intrinseco in qualcosa, ma già non lo è più neanche oggi, ma il valore è nell'informazione. Nell'informazione che da sola non basta, nell'informazione condivisa tra tutte le persone che contribuiscono, che fanno parte di quella rete. Ecco, questa roba che vi ho spiegato e che io ho voluto costruire con le mie mani perché vi avrei potuto far vedere una foto su internet, scrivete Rai, sulla di App, vi appare qualsiasi foto, avrei potuto fare una slide, ma costruendola ha un altro valore perché ha un'altra storia. Ci ho messo cinque giorni, è stato un problema costruirla, però ha un altro valore. ecco, oggi, dopo 600 anni, non l'abbiamo ancora capito. Oggi dopo 600 anni abbiamo una seconda possibilità, però. Stiamo rivivendo quella storia perché esiste una tecnologia che si chiama blockchain, catena di blocchi, che non è altro che cosa? Non è altro che un database distribuito, decentralizzato e condiviso tra i partecipanti di una rete. Quella differenza che è applicata a tecnologie che abbiamo oggi, la stessa identica cosa che nel 1400 si erano inventati con i sassi perché solo sassi avevano, oggi noi ce la siamo inventati con la crittografia, con i computer, perché sono quelli i sassi di oggi, è lì che girano le informazioni di oggi. Ma il problema qual è? Il problema è che dopo 600 anni ci siamo accorti che questa roba forse funziona. Abbiamo perso già 600 anni e tuttora stiamo perdendo tempo. Pensate che per farvi un esempio, per farvi capire quanto è esponenzialmente accelerata lo sviluppo della tecnologia. Se vi dovessi dire qualche prodotto tecnologico degli ultimi anni, tipo l'aeroplano, lo sapete quanto ci ha messo a diffondersi l'aeroplano? Più di 60 anni. E l'elettricità? L'elettricità senza cui oggi non potremmo vivere? 40 anni. 40 anni persi. E i computer, anzi la tv, la tv ci ha messo 20 anni. I computer, una decina di anni. Notate qualcosa? Ogni passo evolutivo è sempre più veloce, sempre più accelerato. Però c'è un problema. Lo sapete qual è il prodotto tecnologico innovativo? Chiamatelo come volete, che ci ha messo il minor tempo per diffondersi e raggiungere dai 50 ai 100 milioni di persone in soli 19 giorni? Pokémon Go. Eh, qualcosa non sta funzionando. Probabilmente c'è qualcosa che non va. Forse la colpa è nostra. Forse stiamo costruendo sempre più tecnologie a misura di uomo e ci stiamo dimenticando di formare quegli uomini a misura di quelle tecnologie. forse oggi stiamo insegnando, tramandando, stiamo dicendo ai nostri figli cose che andavano bene 50 anni fa. Stiamo insegnando loro materie per lavori che esistevano 50 anni fa. Non stiamo dicendo loro cosa esisterà fra 50 anni. Non stiamo spiegando loro perché fra 50 anni il notaio che già nella maggior parte dei paesi mondiali non esiste più certamente non esisterà più. Anzi, li stiamo incitando a studiare per diventare notai. E dopo aver studiato tanto dopo tanti anni se poi non si trovano il lavoro per cui hanno studiato è un problema. E questo è un problema di fiducia. E oggi abbiamo un'opportunità incredibile per la seconda volta nella storia e la prima capite bene che non l'abbiamo colta tanto bene piccola parentesi fino a qualche anno fa all'isola di Yap quindi in tempi moderni ancora utilizzava questo sistema e non si è mai lamentato nessuno. Ecco, oggi noi continuiamo ad andare avanti col progresso tecnologico mandiamo dei cappottabili nello spazio e poi non risolviamo il problema dei furti di auto qui sulla terra non risolviamo il problema degli esseri umani che ci abitano accanto ancora siamo costretti a venire ad una conferenza e tenerci la borsa o lo zaino stretta vicino perché non possiamo lasciarla incustodita. Questo forse è la grande sfida dell'umanità e forse dobbiamo ripartire da qui forse dobbiamo tornare indietro di 600 anni perché oggi non è più pesce grande che mangia pesce piccolo oggi è pesce veloce che mangia pesce lento e la velocità a cui questa innovazione sta andando è incredibile e non ci aspetta non ha motivo di aspettarci cioè mentre ci lamentiamo che domani avremo 800 milioni di robot che ci ruperanno il lavoro dall'altra parte del mondo i paesi che chiamiamo terzo mondo stanno costruendo quei robot li stanno studiando noi no noi continuiamo a studiare e a insegnare a tramandare lavori che già oggi non esistono più che già oggi hanno problema ad affermarsi o a trovare spazio nel mondo del lavoro e questo è un problema enorme e allora se torniamo alla blockchain se torniamo a quella decentralizzazione a quel registro distribuito a quella criptografia che ci permette di certificare e tracciare in maniera immutabile le informazioni pensate alla possibilità di applicarla a tutti gli altri nostri sistemi immaginatevi le nostre tasse pagate attraverso la blockchain il nostro stato avrebbe un privilegio incredibile potrebbe usufruire dei nostri soldi in tempo reale e noi potremmo vedere in tempo reale ogni singolo nostro centesimo se viene realmente speso per il servizio che stiamo pagando e allora non potremo più lamentarci delle tasse perché in quel caso non è colpa delle tasse è colpa di noi che non siamo degni di essere cittadini immaginiamo la beneficenza la possibilità di donare soldi con la blockchain in tempo reale a chi si trova realmente nell'epicentro di un terremoto non a chi ha la quinta casa di vacanze e si deve rifare la villa no e chi veramente in difficoltà ha perso tutto può soffrire di quei soldi in tempo reale non deve aspettare anni che gli sms prima o poi arriveranno ve lo promettiamo meno il 40% di commissioni no li userà subito e allora ripartiamo da qua vi prego perché questo ci insegna una cosa importante ci insegna che la storia di chi siamo noi il nostro passato ci dà il valore ci insegna un'altra cosa che se ci guardiamo intorno chi siamo noi oggi il nostro presente ci può ridare una ripartenza indicarci la strada ma quello che manca è avere fede incrollabile fede nel futuro perché la blockchain funziona solo se siamo tutti d'accordo e pensate quanto siamo forti se ci mettiamo tutti d'accordo grazie grazie a tutti